Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è un momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Segnalevo che sta piovendo su gran parte della Toscana, in particolare in A1 tra Arezzo e Monte San Savino e in FIPD tra Firenze e BVO SGC FIPD di Ramazione Pisa. Lo sguardo al traffico ferroviario per un guasto agli impianti di circolazione, il treno 19065 Siena chiusi e fermo tra Torrita di Siena e Monte Pulciano. Seguiranno aggiornamenti. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, al via Questoggi, lunedì 24 aprile, lavori per l'interramento della linea dell'alta tensione elettrica nella zona di Ponte Agreve con chiusura di un tratto di via Pisana. Fino al 12 maggio sarà chiuso il tratto da via Bugiardini a via Puligo. Ulteriori dettagli sui nostri canali social. Buona versione Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.